Nei giorni scorsi si è tenuta nel Palazzo del Governo la riunione dell'Osservatorio Provinciale Sicurezza sul Lavoro, presieduta dal prefetto di Terramo Fabrizio Stelo e alla quale hanno partecipato i rappresentanti degli enti, amministrazioni, organismi e parti sociali che vi hanno aderito. Nel corso della riunione gli ordini professionali degli ingegneri, dei consulenti del lavoro, dei geometri e dei periti industriali hanno sottoscritto il protocollo d'intesa per il rafforzamento della sicurezza sui luoghi di lavoro nella provincia di Terramo, andando così a rafforzare la squadra dell'Osservatorio. L'Osservatorio si riunisce periodicamente con tutti gli enti, uffici, associazioni, organizzazioni sindacali competenti ed è già un buon momento di confronto. Vengono espresse considerazioni, suggerimenti reciprocamente, quindi tante persone intorno allo stesso tavolo, tutti verso la stessa direzione. Durante la riunione sono stati analizzati congiuntamente i dati aggiornati e in particolare quelli forniti da INAIL, Ispettorato Territoriale del Lavoro e ANCE, relativi agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali. Il prefetto, ringraziando tutti gli intervenuti, ha annunciato l'organizzazione di un prossimo evento in collaborazione con gli istituti scolastici della provincia, in occasione della giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro. Per quanto riguarda le iniziative sono tante, riguardano ovviamente la formazione dei lavoratori, dei datori di lavoro e appunto delle scuole, stiamo lavorando per un'iniziativa per sensibilizzare anche le scuole e abbiamo anche aggiunto alcuni componenti in più al nostro osservatore, che sono quattro ordini professionali, che anche loro daranno il loro contributo, hanno accettato con grande entusiasmo, quindi la composizione si allarga per avere sempre più voci, tutti uniti per camminare insieme contro questo importante e triste, a volte anche drammatico fenomeno.